Ciao a tutti ragazzi siamo ritornati con un nuovo gioco si chiama The Following e questo qua lo ho trovato io. Spero di non aver fatto la cazzata. Hai mai su play che... Lai. Beh, l'ambientazione non è male, a parte che si muove veramente... Voglio andare qua. Questo poi è fatto bene. In bianco di Roma è fatto bene. E' molto sensibile il mouse. E' ovvio. Ciro ando a strada. Corre, si. Posso anche correre. Oh, a parte qua che il disegno non è il massimo ma... Cos'è? Oh. Non so che cos'è finché non mi avvicino. La sedia. Ma vaffanculo la sedia. Però anche le ombre e tutto il resto è strutturato bene. Peccato l'arredamento che fa un po' di... Allora, torniamo indietro. Torniamo un po' di corsa. Wow. Girati, girati, girati. Hanno acceso le luci? Interessante. Audio è un po' pesantino, eh? Eh, sì. Wow! Non devo guardarlo, vero? Wow! Eh... Devo ripartire da capo. Ehi, poi dall'altra parte. C'è anche perché fare un video di due minuti non mi sembra a caso. Almeno... Andiamo dall'altra parte perché questa non è la parte giusta. Oh, ma ragazzi, ma la sensibilità del mouse è impressionante. Proseguiamo. Andiamo. Avanti per questa strada. Madonna, quanto cazzo è lunga sta strada. Ma quando vedi la luce forse è lui. Cioè, quando vedi la luce dietro... Sta per arrivare, probabilmente, sì. E devi correre, secondo me. Oppure non guardarlo, vedremo. Esatto, il problema è che ti viene davanti. Quindi c'è poco da non guardare. Ma perché ti sei girato prima? Sempre giochi al buio, eh. Giochi con la luce, ma... Destra o sinistra, Aron? Destra. Sì, ma sono a destra. Andiamo a destra. Oh! Quando ho sentito quel rumore qua, prima mi... Strada chiusa, destra. Andiamo a sinistra. Però è chiuso. Tutto porta a dire che dobbiamo andare dall'altra parte. Beh, non è molto grande come... Ma guarda, sto giocando a Minecraft. Che bel paesaggio. Luce! Luce! Eccolo qua! E qua! Devo andare al buio. Devo andare al buio, lo so. Devo andare al buio. Devo stare al buio. Luca, dai. Ma io devo capire cosa devo fare qua dentro, oh! Wow! Wow! Vabbia! Vabbia! Ma che cazzo di gioco è? Ma cosa ho trovato? The following. Allora, questo qua, ho già capito, ci segue e noi... Dobbiamo... Questo qua ci segue e noi dobbiamo cercare di scappare. Di là... Ecco perché si chiama l'inseguita. Eh, di là non c'è niente. Proviamo a vedere se troviamo un'uscita di qua. Cos'è sto lavoro qua? Perché c'è questo grigio? Però... Controllo che qua sia veramente strada chiusa, perché se no... Eh, no, è strada chiusa. Tu vai lì. Spengi... Ci dovrebbe spengire la luce o qualcosa lì lì. Dopo vai dall'altra strada. Luce... Che poi la luce è tutto un dire. È un puntino bianco. Non girarti, eh. No. Mai! No, col cane! No, 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 no. Vai via. Vai via, ti prego, vai via, vai via, vai via. È lì. È lì. Eccolo. È lui. ma io non ho un posto dove uscire girate dall'altro lato io non ho un posto dove uscire devo per forza passare di qua Cristo Santo Dio ma è la piattola questo qua è peggio dove non ce la faccio non ce la farò mai non ce la posso far ce l'ho fatta ce l'ho fatta e adesso io continuo io devo continuare a scappare aspetta c'era un'altra strada se mi ci facesse andare ma sono sicuro che non mi ci fa andare aspetta eh sento rumore che qui è qui cazzo l'ho trovato lo ho 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 trovato lo voglio andare voglio schivare voglio schivarlo ce la farò sì che ce l'ho fatta l'ho schivato va da sinistra va da sinistra di qua di qua di qua non ci siamo stati più o meno dove cazzo è una sedia dobbiamo andare di qua è tipo come un labirinto sta cosa mi sta allitando in faccia qui stiamo girando intorno no sta la chiusa che qua bisogna trovare l'uscita questo l'ho capito strada chiusa porca di quella zozza ed una luce i ragazzi non capiscono dove cavolo sia la strada cercheremo ci riproveremo eh per oggi io ho già abbastanza il cuore in niente ragazzi questo era the following l'abbiamo trovato l'ho trovato io in rete quindi mi do la colpa da solo questo era il gioco una schifezza fuori dal comune il colore più che altro quelli mi piacciono molto eh veramente anche le pare di hada ok viente noi ci vediamo e non prossimo ancora qua è tornato ci rimancava un po' che non veniva eh che è quella mano lì in avanti con lì eh gliela dobbiamo fare saluti con noi dai dai va bene noi in compagnia del nostro gattino ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti